Nuova offerta formativa al Centro di Geotecnologia di San Giovanni Valdarno. Questa mattina la presentazione da parte del Sindaco Valentina Vadi. Grazie al lavoro in sinergia con l'Università di Siena, il Rettore Francesco Frati, con il Centro di Geotecnologia, il Presidente Riccardo Salvini e tutto il suo staff. Siamo riusciti a mettere insieme un'offerta formativa sicuramente più ricca rispetto al passato. Questa nuova offerta formativa è stata presentata lo scorso autunno in Palazzo D'Arnolfo e ora sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico che termineranno tra novembre e dicembre. Noi siamo particolarmente orgogliosi perché la struttura, come sapete, di proprietà comunale ha avuto in passato momenti importanti pieni di corsi e di studenti e noi vorremmo raggiungere e ritornare a quell'obiettivo. Il curriculum in Geologie e Tecnologie per quanto riguarda la laurea triennale ed il curriculum in Geotecnologie per quanto riguarda la laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche, come ha dichiarato il Presidente del Centro di Geotecnologie Riccardo Salvini, offriranno agli studenti la possibilità di mettere in pratica aspetti teorici studiati attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie disponibili in questi laboratori. Sì, praticamente si è cercato di dare la possibilità ai ragazzi del Valdarno, direttamente uscendo dalla scuola superiore, di poter seguire un corso di laurea per intero in Scienze Geologiche qua a San Giovanni. Quindi abbiamo affiancato alla laurea di Siena un indirizzo si chiama Geologia e Tecnologie, parlo della laurea triennale, laureato triennale e volendo appunto lo studente ha la possibilità di proseguire nella laurea magistrale con ancora un nuovo indirizzo che si chiamerà Geotecnologie e quindi va dietro a quelle che sono le attività peculiari, le caratterizzanti di questo posto. Grazie a un accordo con il Polo Aretino sono arrivate anche le discipline umanistiche, per cui questo luogo sta acquisendo i tratti progressivamente di un polo didattico accanto alle tradizionali discipline scientifiche e tecniche, anche una parte delle discipline di natura umanistica. Naturalmente poi un altro passo importante sarà quello di lavorare in stretta sinergia con le scuole superiori del territorio, a partire dai due istituti superiori, Isis Val D'Arno e Liceo Giovanni da San Giovanni, ma poi con l'estensione alle scuole superiori di Montevarche e di Fegline, perché questa possa diventare uno sbocco, una opportunità per gli studenti del Val D'Arno.